Sono arrivati degli oggetti, degli oggetti che implicano una abbondante superfettazione gotovi e quindi adesso non abbiamo altra scelta se non aprirli e vedere di cosa si tratta. E' oggettistica, aprire con violenza inaudita questi oggetti, plastica da buttare nell'umido, una lettera che descrive il contenuto e cosa abbiamo in questa scatola? Abbiamo la gioia di esistere e di vivere e cioè una nuova batteria per il portatile, nuova di zecca, pesante, una batteria ai coglioni di litio che installeremo nel portatile, c'è pure il manoletto e una simpatica spugnetta per detergersi. Bene, e questa è fatta. Poi, cosa abbiamo invece qua dentro in questo imballaggio ridicolo e schifoso e sicuramente l'oggetto ivi contenuto sarà arrivato in condizioni pessime. Io già lo so. Già percepisco l'orribilità di un imballaggio fatto male. Vediamo se riusciamo ad aprire. questo è il contenuto, è una docking station per il portatile e voi mi direte ma cosa cazzo te ne fai di una docking station? Semplice. Me ne faccio questo. Le porte. Tutte le porte. E io mi chiedo ma dov'è la presa a microfono? Bastardi. C'è il cavo triplo, il cavo con tre cazzi invece di microfono e cuffia. Questo mi crea dello sgomento. Mi crea veramente tanto sgomento. Sono sgomento. Io speravo in un connettore per il microfono e uno per le casse e invece sono sgomento nel constatare che questo è uno schifo. Spero che ciò sia conforme a quanto da mai scelto. La cosa buona è che c'è, anzi la cosa buona è che c'è l'alimentatore. Questa plastica me la metterò dove sapete voi. Quindi alimentatore e questa è storta perché è storta perché sicuramente ha preso dei pestoni inverosimili. Va bene, è usata però anche sti cazzi. Chissà come funziona questo oggetto. Colleghiamolo. Colleghiamolo immediatamente. Stacco l'alimentatore e proviamo questa docking station che permarrà qui. La docking mi serve per collegare la radio e l'interfaccia cut. Fascette. Fascette che noi tagliamo perché così nessun altro potrà mai utilizzare queste cose orrende. Maledetta sciuco. Maledetta. La maledizione dell'esciuco. È una maledizione, un orrore, uno schifo. Una sventura, una disavventura. Le spine sciuco sono. L'orribiltà, l'orrore di esistere. Lo schifo sulla terra. Sono devastazione e saccheggio. vediamo se riesco. Maledette sciuco. Maledette. Maledetto chi ha inventato le prese sciuco e le spine sciuco. Che sia stramaledetto. Va bene, alimentiamo la docking station. Dove cazzo è l'alimentazione? madonna, l'hanno messo in una posizione in vera e conda. Volevo fare passare questi cavi un dito in culo, anzi un braccio in culo. Ecco. La docking station la metto qua. Questi cavi non li posso usare perché mi manca quello. E ora io docko. Vediamo se riesco a dockare. Come faccio? Devo prima togliere... Vedete, io sono oppresso. Deo libero. E così? Funziona. Bene. Sono perfettamente doccato nella mia docking station. Mi sento veramente docko. Solo che da questo lato io non ho più le porte e adesso le porte sono tutte dietro. Questo è un enorme fastidio perché dove cazzo me lo collego io questo adesso? Nel culo me lo collego. sono costretto a mettere i dischi dietro. Ah, questa docking station è un dramma. È un decadramma oserei dire. Vabbè. Questo è un problema di adattamento. Mi devo adattare. Purtroppo è così. perfetto. E adesso passiamo al terzo e ultimo pacchettino che è molto interessante perché riguarda una cosa che vedremo forse in questo video, forse in un prossimo video. vedete. Questo. Ma soprattutto questo. Non so perché io ho ordinato questo, ma mi sono state mandate anche delle resistenze. Mi chiedo perché. Perché mi ha mandato anche delle resistenze? Allora, questo oggetto, resistenze di precisione, ok, forse sarebbero per lui, poiché questo oggetto è un AD584KH ed è un generatore di tensioni super precise. Questo coso, se non mi sbaglio, genera 5, 10, 15 e 20 volt con una precisione al millivolt. E quindi vorrei usarlo per tarare i tester. Perché il dilemma della taratura dei tester è sempre quello che non si sa mai quale tester è affidabile e quale no. ma con questo oggetto che andiamo a vedere noi possiamo tarare e metti a fuoco. Telecamera del cazzo! noi con questo possiamo tarare i tester. È un integrato di precisione che genera le cose. ma adesso dobbiamo stravolgere la nostra resistenza e installare la batteria nel portatile. Quindi dobbiamo andare nel BIOS e fare la seguente. se non mi sbaglio, si preme F1. Veloce! F1, sì. E dobbiamo andare a dire di spegnere la batteria. se non mi sbaglio, se non mi sbaglio, si va su Security. Dov'è? Boot? No. Config Power. Disable built-in battery. Si fa questo. System will be powered down if you select. Yes. Do you want to proceed? Yes. E lui si spegne. Praticamente ha spento la batteria interna, l'ha disabilitata. Così noi possiamo smontare il portatile senza farlo esplodere. Se facciamo qualche cazzata. Come noi adesso immediatamente sicuramente faremo. perché faremo cazzate. Per smontare il portatile basta togliere, anzi basta svitare perché non si tolgono le viti che bloccano questo coperchio. Le viti non escono, rimangono bloccate in posizione così non si perdono. è una cosa buona. Poi negli auto fanno vedere che usano l'unghia per aprire. Ma io non userò l'unghia. Io userò i cosiddetti attrezzini di plastica che si usano per aprire i telefoni. Ne ho alcuni donati da Cuba che saluto. e quindi con questi attrezzini di plastica io disarticolo con violenza e con odio. Beh, soprattutto con rabbia. Non è per niente facile farlo con l'unghia. Ecco, questo l'ho aperto poi. Qui di lato. Ora che mi ricordo devo anche togliere questa merda. Questa merda mi serve una graffetta. Dove trovo una graffetta? Non ho una graffetta. Ma ho una spilla di sicurezza. Userò questa. Perché l'altra volta io l'ho castrato. Questa cosa l'ho fatto esplodere. Questo inutile portasino. E si continua. Come vedete. Non è proprio immediato. Però... O avete le unghie di un porco come quelle di chi ha fatto l'auto. Oppure vi assicuro che non riuscirete mai a togliere questo coperchio. tranne, ripeto, se non avete le unghie... Le unghie di un porco. Che cazzo è caduto lo zoom. Vaffanculo. Gifè di un po' di C***o 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 B... Sìo Si è distrutto il microfono. C***o 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 Bastardo! Ok, a questo punto dobbiamo innanzitutto verificare che la batteria sia identica. E fortunatamente lo è, perché quando ordinate la batteria per il portatile L480 sappiate che ce ne sono due tipi diversi, con supporti delle viti differenti, quindi fate molta attenzione. La sigla è questa, L17L3P52, oppure SB10T83137, oppure ce n'è un altro vaffanculo. Quindi a questo punto mano al cacciavite, che non trovo più, perché ovviamente è sparito a un altro vaffanculo. E quindi abbiamo una vite qua, queste escono. Il cacciavite ovviamente si è smagnetizzato, quindi lo passiamo su un magnete per hard disk e lo magnetizziamo, in modo che le viti possano essere prese comodamente. Poi c'è una vite qua, e poi c'è una vite qua. Sono tre viti, perché qua sotto non servono viti, in quanto queste sono degli appoggi. Poi si prende il connettore, questo, e lo si tira, e abbiamo staccato la batteria, che sicuramente sarà incollata, ma poco. È poco incollata, bene. Ah, era incollata solo da questo adesivo, vedete? Questo adesivo di merda, che noi toglieremo, e metteremo qua. Ok, quindi la vecchia batteria se ne può andare a fare in nano, le nuove originale, e adesso mettiamo la nuova batteria, che va messa semplicemente appoggiata. Mi pare che siamo a posto. Ora, il connettore conviene forse rinfilarlo prima, e infatti glielo ficchiamo, con la violenza. E ora abbiamo questo cavo. Si infila per così, vedete, perché ha delle tab, e poi si appoggia. Qui c'è un cavo che, come vedete, è più lungo del normale, bisogna schiacciarlo un po' e metterlo in posizione. Quindi fate attenzione. A questo punto rimettiamo le viti, che sono una, due e tre. E ovviamente questa non entra. Perché? Perché la batteria è storta. Quindi svitiamo un po' questa, che si è svitata completamente. Allora, mettiamo questa prima. Poi mettiamo quest'altra. E già sto bestemmiando. Ecco. E mettiamo l'ultima, senza avvitare fino in fondo. Ecco. Solo ora posso avvitare, ma non con una forza inaudita. E basta fare così con le dita. Non bisogna esagerare. La batteria è installata. Possiamo provarlo? Beh. La metto alla cover? Ehi! Ma sì. Vaffanculo, metto alla cover. Chiudo. Metto alla cover. E ora? Vorrei evitare di attaccare lo schermo. Quindi chiudiamo questo guscio del cazzo. Mi sembra di avere chiuso bene. Devo solo chiudere qua. E... A vista del scrupolo. Avvitiamo le viti. Che cazzo. E a questo punto direi di provare di accendere. Ah, certo. Non si accende perché abbiamo spento la batteria interna. Quindi l'unico modo per accenderlo è ficcare l'alimentatore. Nel nostro caso vuol dire collegarlo alla docking station. e accendiamo. Vediamo. Così si evita il riflesso. Andiamo nel BIOS e vediamo se mi dà qualche informazione sulla batteria che abbiamo appena installato. No. Niente. Non dice un cazzo sulla batteria. Va bene. Ma come cazzo è partito puttana... Ma va a fanculo XFCE di merda Non c'è più Enlightenment Ma che cazzo è successo? Ma porco Ok, io non so cosa sia successo ma qua abbiamo una batteria che dice 100% mentre prima mi dava 46% quindi questa è una batteria al 46 moltiplicato 100 ed è una cosa che se trovassi un pennarello sinceramente glielo scriverei pure sopra ma io sto cercando qua ma non trovo ah ecco un pennarello bene ora poi gli scrivo 46% quindi questa batteria probabilmente gli sparerò con il fucile per vederla incendiarsi oppure la regalerò al mio caro amico Nirvana che saprà bene lui cosa farci bene abbiamo una batteria al 100% anche questa aveva il cavetto lungo però guardate l'ho piegata così e invece l'ho piegata in su affanculo non me ne fate un cazzo non me ne fate un cazzo